attenzione edoardo dentro al sec al botte se no ti devo eliminare i piedi la tattica dei piedi in arti ma nel frattempo fa un po di addominali acqua nella vasca di roger è a livello del plexiglass hanno forse per aderire ancora e marco invece la situazione ancora comoda iniziano a essere stanche le due squadre ricordo che siamo al 64esimo giorno di permanenza all'interno dell'isola per i veterani soprattutto anche il livello dell'acqua di eccolo qua roger è al pelo solo il naso e la bocca ha chiuso la bocca roger sta per uscire attenzione si è rimasto sott'acqua edo attenzione e quindi marco svegliate marco chiamate marco ok ok yes avete vinto la prova bravo bravo